Questa è una riformetta, nel senso che tutto sommato non sembra cambiare molto del nostro sistema istituzionale. Sarebbe una riformetta, a mio parere, pessima e tuttavia non particolarmente rilevante in tempi normali. Non lo è con i tempi che corrono e proprio per le ragioni di cui parlavano Unida e Menzella, e cioè perché i problemi sono altri e richiederebbero una politica istituzionale opposta. Intanto c'è l'aspetto più sconcertante, qui non è stato sottolineato, ma lo diamo per scontato. Mi pare incredibile che nel silenzio e nella fretta un Parlamento che sta in scadenza, un Parlamento di nominati, un Parlamento screditato, che ha fatto montare l'antipolitica che rappresenta il pericolo di cui tutti siamo consapevoli nei confronti della nostra democrazia, un Parlamento non più rappresentativo, semmai lo è stato, visto che l'attuale maggioranza parlamentare ha il 20%, non so quanto, ma comunque non è più maggioranza nel Paese, faccia una riforma costituzionale. Già questo, a mio parere, è scandaloso e dovrebbe, soprattutto per le forze di sinistra, suonare come un segno di allarme, un segno di distanza dai problemi del Paese e soprattutto di politica istituzionale che continua, sia pure attraverso riformette, ad andare nella stessa direzione in cui si è andato finora, e cioè la personalizzazione del sistema politico, il rafforzamento dell'esecutivo rispetto al Parlamento, una cosa su cui tornerò rapidamente. Il secondo aspetto che rende questa riformetta, diciamo, allarmante, inquietante, è che non è soltanto un aliudagere, un pensare ad altro. Le questioni di cui parlava Unida e Menzella, cioè la crisi economica, l'incapacità della politica di fronteggiarla, sono il vero segno di una crisi della democrazia. Una crisi della democrazia che viene espressa appunto dagli slogan siamo il 99% governati dall'1%, certamente noi stiamo registrando una subalternità crescente scontata della politica all'economia. Una subalternità della politica all'economia che contraddice a mio parere non solo, diciamo, i principi della democrazia, ma anche la natura stessa dello Stato moderno che nasce come sfera pubblica, eteronoma rispetto alla sfera privata, alle sfere autonome delle economie e dei mercati. Come sfera uteronoma e sopraordinata alle sfere autonome dei mercati. Noi abbiamo, viceversa, stiamo vivendo, non è soltanto un problema italiano evidentemente, probabilmente a causa della globalizzazione, il fatto che i mercati sono globali e le politiche che continuano ad essere nazionali, ad un capovolgimento del rapporto tra politica ed economia. Non abbiamo più il governo politico dell'economia, ma il governo economico della politica. Non sono più gli Stati che mettono in concorrenza le imprese, che garantiscono il mercato, ma sono le imprese che mettono in concorrenza gli Stati investendo nei luoghi in cui possono massimamente sfruttare il lavoro, in cui possono, appunto, corrompere i governi, devastare l'ambiente. C'è, in altre parole, un capovolgimento di questo rapporto che contraddice, ovviamente, la democrazia, ma contraddice ancor più il ruolo della sfera pubblica rispetto all'economia. Un processo che si fonda, nell'età della fine dell'ideologia, è su un'ideologia potentissima, e cioè l'idea che le leggi del mercato sono leggi naturali, sicché il governo consiste nell'applicazione tecnica di cui il governo tecnico, nella migliore applicazione tecnica di leggi naturali assunte come, per l'appunto, oggettive. E questo, benché le politiche che vengono assunte tecnicamente in esecuzione di queste leggi naturali, e che probabilmente al governo dei singoli Stati mancano di alternative, non può essere un solo governo, per dire il governo Monti a cambiare l'intera politica europea, benché queste politiche siano risultate fallimentari, continuano a proporsi come terapia, come medicina. Adesso io credo che questa sia la vera crisi epocale, che non riguarda soltanto l'Italia, della democrazia, che sta producendo un capovolgimento non solo del rapporto tra politica ed economia, ma anche un capovolgimento del rapporto tra Costituzione e mercato. La vera Grund Norm, le vere leggi fondamentali non sono più le norme costituzionali, sono le leggi del mercato. Vincoli di bilancio, sembra una piccola riforma. Con la stessa espressione, vi prendo qui quanto diceva Menzella, a proposito dei diritti fondamentali. In Brasile, vincoli di bilancio significa in Costituzione la previsione che almeno il 25% del bilancio deve essere destinato alla salute, all'istruzione, scusate, il 18% alla salute, un'altra percentuale del 12% all'assistenza, per l'appunto, alla borsa famiglia. E cioè si è trasformato in vincoli censurabili, la cui violazione è censurabile giuridizionalmente ad apparto delle corte costituzionali, quelle che altrimenti sarebbero delle lacune, mancanza di attuazione. E cioè i diritti fondamentali sono stati portati come ragion d'essere, perché lo Stato non è un'azienda privata, la cui finalità non è la ragione di lucro, la cui finalità è la garanzia dei diritti fondamentali. E con questo tipo di vincoli badate abbiamo avuto una crescita enorme del PIL, ma anche delle condizioni di vita dei brasiliani. In Brasile c'è una disuguaglianza enorme, ma incomparabile rispetto a quello che c'era vent'anni fa. C'è stata una crescita economica, una crescita delle condizioni di vita e questo del resto non c'è bisogno di essere degli economisti per registrare che la garanzia dei diritti sociali è il principale investimento produttivo. In Italia abbiamo avuto un boom economico quando è stato costruito lo Stato sociale, quando è stato costruito il servizio sanitario, la scuola pubblica, perché i diritti sociali sono un investimento produttivo, che consentono non solo la produttività individuale, ma anche la produttività collettiva. La maggiore ricchezza dei nostri paesi, sempre più poveri, rispetto ai paesi, diciamo, sottosviluppati, non sviluppati, o anche rispetto al nostro stesso passato, consiste nel fatto, è dovuto al fatto che abbiamo garantito i minimi sociali. I diritti sociali non sono un lusso, sono una necessità dello sviluppo e viceversa le politiche che stiamo adottando e che sembrano per l'appunto attuazione tecnica di leggi naturali sono politiche che si sono dimostrate fallimentari e che stanno producendo e stanno producendo l'impoverimento generale, la recessione. E per quel che riguarda l'Europa, voglio riprendere quello che diceva Manzella, si è avuto di nuovo un capovolgimento, non soltanto che i trattati sono i signori degli Stati, ma che l'economia, ricordiamolo, è stata utilizzata dai padri costituenti dell'Europa come un fattore di unificazione. Quando è stato fatto il mercato comune, quando è stato introdotto l'euro, ancora fino all'epoca di Prodi, l'economia era pensata come un fattore di unificazione. Adesso sta diventando un fattore di disgregazione. Adesso sta producendo, ed è un prezzo incredibile che non so se riusciremo mai a, diciamo, superare, stiamo producendo il crollo del senso di appartenenza. Perché se l'Europa deve manifestarsi come un'entità ostile, se per non pagare i 40 miliardi che servivano per salvare la Grecia paghiamo il prezzo di far avvertire l'Europa ai gresci, ai siti più deboli, per disoccupazione, per impoverimento, in Spagna, in Italia, in Francia, come per l'appunto un danno, l'Europa crolla non per ragioni istituzionali, ma perché non importa più a nessuno, non è più un fattore diciamo di progresso. Il senso di unità di una popolazione risiede nell'uguaglianza nei diritti e quindi anche nei diritti sociali. E l'idea che viceversa ci sia paesi in cui la Germania ci siano condizioni di vita e garanzie non comparabili e non si vada verso un'unificazione delle garanzie dei diritti, sta producendo un crollo del senso di appartenenza. E non sarà facile rimediare a questo crollo. E allora per tornare alla nostra riformetta non è vero che non abbia nulla a che fare. Purtroppo non è vero che non abbia nulla a che fare. Ha a che fare intanto perché segnala il non far altro, e cioè segnala la mancanza di un'alternativa politica. Quest'anno avrebbe dovuto essere utilizzato non per riformare la Costituzione ma per riformare i partiti, per formulare una politica alternativa, come ha fatto Hollanda in Francia rispetto alle attuali politiche, fallimentari per l'appunto, e per aggregare consenso intorno a queste politiche. Ma questa riforma, che per quanto riformetta continua ad essere in direzione, secondo la logica, certamente non è comparabile con quella del 2005, ma sempre l'idea della personalizzazione, del rafforzamento dell'esecutivo, il voto bloccato, la sfiducia che diventa un fenomeno eccezionale ed emergenza, il Parlamento unificato, la massima solennità, quindi un fenomeno da contrastare, da considerare una specie di estrema razio. tutto questo è in direzione del rafforzamento dell'esecutivo, perché l'impotenza della politica nei confronti dei mercati è possibile solo se accompagnata da una onnipotenza della politica nei confronti della società, nei confronti dei comuni cittadini, in una liberazione dai vincoli legali e costituzionali. La Costituzione è scomparsa dall'orizzonte, non parliamo del governo Berlusconi, ma anche del governo tecnico. E il principio di legalità, lo diceva Manzella, non è più un principio fondante della politica. Il senso dei limiti e dei vincoli viene avvertito di volta in volta come limitazione della democrazia rappresentativa, anziché, appunto, garanzia della ragion d'essere dell'artificio. E quindi questa onnipotenza o comunque surplus di legittimazione e di potenza dell'esecutivo, il voto bloccato, non accompagnato, Manzella ricordava la possibilità delle minoranze in altri paesi, ma in altri paesi, come per esempio in Brasile, ci sta il provatore generale alla Cassazione, per noi alla Cassazione, alla Corte Costituzionale. Per noi una legge, finché non viene sollevata incidentalmente, può rimanere per anni in una legge invalida. Cioè c'è una patologia, probabilmente dovuta al fatto che il nostro è stato uno dei primi ordinamenti che ha introdotto la giurisdizione di costituzionalità, che nel frattempo però in altri ordinamenti è molto più efficace e soprattutto caratterizzata da un accesso da parte di organi pubblici che non possono non supplire le carenze del singolo individuo. Il singolo individuo, il recurso di amparo, per alcuni diritti non sono sufficienti. Quando si dice ci sarà un giudice a Berlino, ci deve pure essere anche un pubblico ministero a Berlino, di fronte a violazioni clamorose, come c'è per esempio in tanti altri paesi. A garanzia per l'appunto dei diritti e contro le violazioni, che un sistema sempre più complesso, come sono i sistemi multilivello, rende fisiologiche, ma in alcuni casi patologiche. E allora una politica, io capisco che la destra oggi non abbia... ma che la sinistra non assuma la necessità, non tanto di andare alle elezioni, figuriamoci, ma di prepararsi a governare in maniera diversa e a rifondare il rapporto tra economia e politica. Noi abbiamo provato a lanciare un'associazione che si chiama Economia Democratica, per l'appunto, per restaurare questo rapporto, che ristabilisca il primato della politica sull'economia e soprattutto il primato della Costituzione sulla politica, prendendo sul serio i diritti fondamentali, come cose vincolanti, come norme, come principi, la cui violazione delegittima il potere politico. Se non c'è questa alternativa, lo diceva Manzella, andremo incontro ovviamente al rifiuto della politica. Io sono fortemente, credo tutti noi, ma a me hanno fatto paura le dichiarazioni di Grillo contro il Parlamento, contro gli immigrati, contro le... a favore dell'evasione fiscale. Noi stiamo assistendo in Europa, perché questo è un problema comune, alla crescita di un'antipolitica, di un qualunquismo che può minacciare la democrazia. Non sono cose nuove, sono già successe nella nostra storia. E allora le forze di sinistra, forse anche grazie al fatto che la destra ormai è in crisi di rappresentanza, eccetera, o si prepara ad una difesa della Costituzione, ma qui non si tratta tanto di entrare nel merito di questa o quella norma, ma una difesa delle garanzie costituzionali, dei diritti fondamentali e del ruolo del Parlamento, attraverso un ristabilimento del rapporto tra partiti e società, e attraverso un primato del Parlamento, che è vero che il Parlamento deve decidere, ma qui la decisione è solo del Governo, il voto bloccato, la sfiducia resa praticamente impossibile, è in direzione, purtroppo ce lo dobbiamo dire perché abbiamo alle spalle vent'anni di deriva populista e personalista, in cui il voto di sfiducia veniva considerato una specie di attentato alla democrazia, un golpe, il fatto che il parlamentare... quindi abbiamo avuto una modifica del senso comune, una regressione culturale, proprio all'insegna della concezione della democrazia come investitura di un capo. Questa è stata la democrazia nella concezione corrente, continua ad esserlo, e di fronte a questa concezione, che è alla base di tutti i populismi, ci vogliamo mettere a introdurre una voce di sfiducia di questa portata. Certo questo va benissimo in Germania, probabilmente poteva andare bene anche nella Prima Repubblica, in un Paese civile, ma noi stiamo vivendo una fase di crisi profonda della politica che non ci consente, non ci permette di dissestare ulteriormente il rapporto tra Parlamento e Governo, rendendo onnipotente di fatto l'esecutivo. Quindi io credo che questa è una riformetta, d'accordo? Però a me pare che la ragione vorrebbe che le forze politicamente responsabili cambiassero decisamente strada. E direi che l'impegnarsi in questa riforma è il segno, purtroppo, di una mancanza di senso della realtà, di una mancanza di percezione, non solo dei problemi reali, ma anche della percezione che una riforma di questo genere avrebbe a livello d'opinione. Si riforma la Costituzione anziché riformare se stessi. Questo io credo che finirebbe per, anche se viene presentato, siamo riformatori, facciamo qualcosa, finirebbe per rappresentare un ulteriore fattore di discredito. E quindi spero che su questo ci sia un ripensamento e in questo l'ottimismo è dovuto anche al fatto che abbiamo soltanto un anno e quindi può anche darsi che non ce la si faccia. Grazie.